Questa è la nostra controinformazione settimanale, riassumiamo insieme le notizie della settimana grazie anche agli amici di informazionecattolica.it, linea a Pietro Alicciardi, ciao Pietro! Grazie Semmi per la libertà. Allora, domani è il giorno della memoria in cui dice Barbara Piano nel suo articolo teniamo in rianimazione solo il ricordo della persecuzione degli ebrei mentre la giornata dovrebbe ricordare tutti i genocidi perpetrati fin da prima del Novecento pensiamo ad esempio allo sterminio dei nativi americani ad opera degli anglosassoni e protestanti o agli armeni quasi sterminati dai turchi o ancora ai nostri giorni alla mattanza di cristiani ma per ricordare tutto questo di Ciappiano bisognerebbe conoscere e studiare la storia che invece c'è chi vorrebbe eliminare del tutto dalle nostre scuole. Matteo Castagna ci parla di Gianfranco Miglio, intellettuale di antica conoscenza della Lega le cui brillanti intuizioni purtroppo sono state solo in parte raccolte egli nel 1991 scrisse un articolo in cui parlava della necessità di una comunità internazionale che fosse il prodotto più alto della civiltà giuridica europea e del cristianesimo come anima dell'Occidente quasi profeticamente il politologo e costituzionalista Comasco ci ricorda ancora Castagna continuò la sua riflessione così l'ONU è senza dubbio un'istituzione imperfetta e viziata da molte ingenuità coloro i quali non amano gli Stati Uniti possono consolarsi l'egemonia di quelli presto o tardi tramonterà perché l'assetto multipolare implica la rotazione di egemonie temporanee come nella vita politica interna Daniele Trabucco scrive sul diritto naturale classico e le forme di Stato e di governo ricordando che i termini forma di Stato e forma di governo sono molto utilizzati nel diritto costituzionale e nella scienza della politica ed indicano rispettivamente le modalità con cui gli elementi costitutivi dello Stato moderno ovvero popolo, territorio e sovranità si combinano tra loro e interagiscano nelle diverse esperienze ed il modo con cui il potere è distribuito tra gli organi del cosiddetto Stato apparato ora, la Chiesa Cattolica sul punto non ha mai indicato alcuna preferenza a condizione che la scelta sia legittima ossia in piena sintonia con i principi cristiani e quelli propri del diritto naturale classico ma Papa Pio X respinse in modo molto netto l'idea che la democrazia potesse essere considerata la forma migliore condannando in questo modo i tentativi di legare la Ecclesia Cristi ad una concezione politica determinata specialmente quella della democrazia moderna che si fonda su principi dottrinali errati primo fra tutti la derivazione popolare del potere quando questo per la dottrina cattolica non può che provenire da Dio sempre Pio X esortò a restaurare e restaurare la comunità sociale senza sosta sui suoi fondamenti naturali e divini contro gli attacchi sempre rinascenti della malsana utopia della rivolta e dell'impietà esortazione attualissima in questi tempi demoniaci è a noi il compito di operare in questa direzione brutte notizie dal fronte sanitario le riferisce il dottor Paolo Gulisano in prima linea in ospedale ai tempi del covid negli scorsi giorni è stata resa nota infatti la bozza del piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggior potenziale pandemico per il periodo 2024-2028 questa è la dicitura esatta ebbene si tratta di un copia e incolla di quanto di fallimentare e inutile abbiamo sperimentato con il ministro Speranza di morte in pandemia ovvero vigile attesa liberticida lockdown e vaccini o più probabilmente quelli che saranno spacciati per tali e venduti a caro prezzo ai governi si tratta fortunatamente di una bozza come ho detto e speriamo vivamente che il ministro Schillaci non ci deluda nel modificarla perché se i cittadini hanno votato il centro-destra è anche per togliersi di torno la cricca nazisanitaria che ha rovinato l'Italia in pandemia un altro medico il dottor Andrea Bartelloni riferisce invece dei seminari tenuti in nuove regioni italiane dedicati alla dignità e libertà della cura dove si è parlato di cure palliative ovvero del trattamento del dolore che praticato ancora in maniera insufficiente nelle nostre strutture sanitarie è una valida alternativa all'eutanasia come dimostrano peraltro i dati provenienti dai paesi in cui l'omicidio legale è praticato parliamo ancora dell'incontro di Davos dove in corso il World Economic Forum conciliabolo di miliardari che dopo aver bruciato tonnellate di carburante con i loro oggetti privati per arrivare da ogni parte del mondo in Svizzera ci diranno di buttare via la nostra utilitaria perché inquina Gianni Toffali in una notarella di costume ci descrive il clima di allegra baldoria tra pranzi a base di caviale funghi magici e dessert in foglia d'oro mentre a noi ci vogliono far mangiare dar da mangiare vermi, grilli e farine di vermi e naturalmente anche le escort da 2500 dollari a notte eh sì perché discutere di sicurezza globale economia integrata uguaglianza di genere ecologia e come imbavagliare l'informazione è fatica e un po' di sana distrazione ci vuole quindi le escort Gian Piero Bonfanti descrive invece i nuovi scenari che si aprono con l'ingresso dell'Egitto nell'area dei BRICS si tratta di un paese strategicamente importante per il Mediterraneo non solo per il commercio ma anche per il controllo dell'immigrazione clandestina e al quale per questo l'Europa ha dato un bel po' di soldini e tuttavia adesso entra a far parte di un blocco che è diverso e alternativo al nostro che è sotto egemonia americana staremo a vedere restando in politica internazionale informazione cattolica riporta quanto detto in un'intervista dall'ex analista della CIA Larry Johnson secondo il quale il confronto in atto tra la flotta americana e gli UTI a largo dello Yemen sta dimostrando la debolezza di Washington in quanto gli Yemeniti stanno minacciando il traffico internazionale con droni dal costo di 2000 dollari l'uno che vengano abbattuti con missili dal costo di 2 milioni ciascuno in più ogni nave americana può imbarcare al massimo 90-100 missili sparati i quali devono tornare in porto per rifornirsi e con loro devono tornare alle portarie che scortano e proteggano questa è la conseguenza di una politica attuata a suo tempo dal Clinton che tagliò pesantemente il numero delle navi logistiche destinate a sostenere la flotta in teatri lontani quindi conclude Johnson se gli americani non possono restare a lungo a largo dello Yemen e figuriamoci se possono portare le navi davanti alla Cina lasciando intendere con questo che Taiwan diventerà presto una provincia di Pettino e con questo è tutto caro Semmi anche per questa settimana e ragazzi che super controinformazione e questo era soltanto un assaggio perché se fate un giro sul sito informazione cattolica punto it trovate ancora di più grazie davvero Pietro Licciardi un saluto a te a tutti i tuoi colleghi un saluto a tutti i radio resistenti di Radio Libertà stai ascoltando Radio Libertà la tua voce libera senza filtri né censure la tua radio